Siamo nel chiostro dei frati di Saronno, in via Legnani, e siamo con un rappresentante di una mitica famiglia saronnese, la famiglia Copreni, già residenti in questi luoghi a Saronno fin dal 1700. È con noi Angelo Copreni, il mitico cordaio di Saronno. Due anni fa il nostro Angelo ha ricevuto un premio dalla Rotary Club di Saronno, sempre, per la sua ultrasettantennale attività di imprenditore. Ho con me la motivazione di tale premio. Ne do lettura. Nato nel 1923, anche se li porta molto bene gli anni, ma è nato nel 1923, nella casa ora demolita nei pressi della chiesa di San Giacomo e dell'oratorio di via Legnani, nella nota e numerosa famiglia Copreni, residente, mi ripeto, a Saronno fin dal 1700, proprio in questi luoghi. I Copreni sono famosi per la loro ultracentenaria attività artigianale di fabbricazione di corde di tutti i tipi, da qui il soprannome di corde. Angelo Copreni è l'erede di questa attività, ora proseguita, sempre con la direzione del patriarca qui presente, dai figli Luigi e Franco. Attualmente l'iniziale attività artigianale si è trasformata con il cambiamento dei tempi in attività commerciale. L'attività artigianale, fino a qualche decennio fa, il signor Angelo poc'anzi ricordava fino a 44 anni fa, veniva svolta all'aperto, sulla striscia di terreno annesso alla sua casa di abitazione, proprio di fronte all'oratorio maschile di via Legnani, ove attualmente è il cancello d'ingresso dell'Istituto Padre Monti. I Copreni, vista la loro vicinanza alla Chiesa di San Giacomo, erano anche da tempo immemorabile i custodi delle chiavi della Chiesa stessa. Angelo Copreni, con i suoi 86 anni e con la sua ultrasettantennale attività, è sicuramente il meno giovane saronnese in piena attività, ed è ancora sostenuto da rara lucidità mentale e vigore fisico, tanto è vero che lo si vede spesso al mattino presto in bicicletta o la guida del suo furgone rosso di lavoro. Sicuramente per Angelo Copreni vale la bella preghiera, forse oggi in disuso, Signore, dammi vita finché ho lavoro, dammi lavoro finché ho vita. Ecco, allora il nostro Angelo Copreni ci dirà oggi come si fabbricava allora la corda, a quanti anni ha iniziato la sua attività e a chi la si vendeva. So per tradizione orale dalla famiglia Copreni che addirittura la portavano a Santià con cavalli e caretti nel dopoguerra e forse anche prima della guerra, con il papà Luigi, ecco il papà Luigi si recava e poi anche lui. Allora il nostro signor Angelo ci dice come si svolgeva questa attività di fabbricazione della corda. Si è sempre incominciato con la corda di canapa perché allora le fibre sintetiche non esistevano. Per commettere questa corda si pigliava la canapa che era distinta in canapa ferrarese che era molto alta e più bianca e in canapa napoletana che era più corta ma giallognola e si preferiva la prima per la sua resistenza molti di più di quella napoletana. E' più pregiata insomma. E' più pregiata. Quindi si pigliava questa canapa in matasse molto grosse ed è qua che bisogna aprire una coda. Non si poteva più dare la matassa e filarla, bisognava spinarla. Spinarla che cosa vuol dire? Che c'era un apparecchio apposta con mille punti in ferro e lo si faceva a mano e si faceva la stoppa di questa matassa. La matassa la si adoperava manualmente e si faceva il filo di corda che si prolungava per 30-40 metri a filo per filo e si faceva 100-120 fili al giorno. Alla sera questi fili... E di che dimensioni erano i fili? I fili erano 4-5 mm. Ah, di diametro. Di diametro. Alla sera si pigliava questi fili a 4-4 e si commettevano, cioè si mettevano insieme e si faceva una matassa. Fin quando questi 100-120, cioè la protezione che si faceva, era divisa in tanti trefoli. Questi trefoli si facevano su a matassa e si immergevano alla sera verso le 6-7, quando si finiva di lavorare, nelle vasche a bagno, si metteva con l'acqua. Acqua semplice. E stavano lì per tutta la notte. Al mattino, verso le 6-6 e mezzo, si toglievano queste matasse e si portavano su questa striscia di terra dove si filava la canapa. Tutti i mesi dell'anno, al sole, quando nevicava, quando c'era il vento, qualsiasi tempo. E a cielo aperto. Sempre a cielo aperto, estate e inverno. Quando fiocava tanto, anche un metro la si faceva via, si continuava il lavoro. Queste matasse si stendevano da un palo all'altro e si lisciavano, cioè con delle maglie di ferro manuali, e si lisciavano tutto fino in fondo, a filo per filo, a trefolo per trefolo, fin quando stavano lì due o tre ore, fin quando diventavano secche. Quando diventavano secche, si pigliava o tre trefoli o quattro trefoli e si commettevano per fare le corde più grosse. E qua per la canapa. Poi è venuta la richiesta dei cavi per ormeggio. Allora si adoperava la manilla, cioè un vegetale che arrivava proprio dalla manilla, era l'unico posto al mondo. Dalle Filippine immagino. Dalle Filippine. Perché? Perché mettendo i cavi di canapa in acqua marcivano, invece la manilla era un vegetale poroso, l'acqua entrava e usciva e così si facevano fino ai cavi d'ormeggio transatlantici, cioè con uno spessore di 100-110 mm, lungo magari 120-130 metri, che poi un capo lo si faceva in un modo che da grosso, con una certa tecnica, diventava molto sottile con una gassa. Noi che dicevamo un gassa, quello che è la... come si chiama? Ma certi attrezzi hanno solo la dizione dialettale, perché il linguaggio di allora era questo, eh? Gassa. Sì, la gassa è quello che è la... come si chiama? Una... Un'asola. Ah. Un'asola molto fine che la si lanciava dal bordo verso l'attracco. La bova, verso la bova. No, la bova non conto. Quella era proprio un gancio di cemento ferro a riva. Sì. E questa gassa la si pigliava con un rampino e si attaccava in modo che la nave non poteva più... Allontanarsi. Allontanarsi. E questa qua si chiamava i cavi di manilla che si adoperava appunto per quell'uso. Invece le corde di canapa è tutta un'altra storia. Il perché? Perché la corda di canapa... Noi non facevamo lo spago, cioè quella corda fine che caddeva un gomitolo di spago che sono a corrente. Sì, sì, sì. Perché ci volevano delle macchine e noi le macchine non le avevamo. Facevamo dal 4 mm fino a 80 mm. 80 mm di diametro? 8 cm. 8 cm. Ora vi spiego il perché. I magli all'esottofraschino c'erano dei giganteschi magli. Per attutire il colpo del maglio si metteva questa corda che era fatta ad anello per ammortizzare il colpo. E questi qua all'esottofraschino ne abbiamo dato parecchio. poi si adoperava anche per un altro uso dato che in questi grossi stabilimenti di acciaio c'erano i lingotti di ferro che bisognava trasportarli da un posto alla lavorazione. In un primo momento si adoperavano le catene le catene non avvisando si rompevano e è successo anche parecchi morti. Allora hanno operato la corda. Perché la corda? Perché quando un certo carico supera il massimo consentito ecco appunto il carico di rottura avvisa cioè è fatta a 3 a 4 trifoli se ne spaccava uno Ah ho capito è un allarme un allarme e quindi io andavo la superiorità della corda sul ferro e l'acciaio e la catena effettivamente perché aveva un allarme innestato si può dire innestato proprio perché non si rompeva in un sol colpo cominciamo ad avvisare attenzione che mi rompo invece la catena la salumpeva da colpo poi ho provato con con le calamite calamite giganti che quando c'era il blackout ha succeduto quello che ha succeduto perché te immagina a 15 metri un carico di lingotti di 20 tonnellate che si che si che si sbagli una volta solo 200 quintali è un disastro è un disastro e quindi ha sempre adoperato la corda oltre per i magli quei giganteschi magli che che si adoperavano sotto fraschini per fare la corda per fare la corda qua artigianalmente sempre cioè manuale ripeto si facevano questi fili fini o più grossi che si mettevano insieme per fare sempre le corde più grosse quello che ho fatto che mi ricordo la funicolare da como che andava su a e la funicolare che va su a ma sacciamo brunate scusate l'apsus brunate poi c'è san maurizio ma la funicolare arriva quella lì nel 1800 nel 1820 eccetera abbiamo fatto delle corde apposta perché non c'erano i macchinari di oggi c'era la ma sarà la ruota che faceva come un anello no con dei ganci che la funicolare andava su a trazione proprio come 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 si dire metti che c'è una ruota grossa qua è una ruota là no e si faceva la piombatura cioè la si metteva fatta ad anello questo anello agganciava dei denti che tirava su c'è la cabina e allora ne fa una più lunga era 180 metri però e pesava 15 quintali caspita si è propria effettivamente restava un'opera che andavamo al di là della madonnina perché fino alla madonnina io mi ricordo da ragazzo che fino alla madonnina si arrivava si metteva un un pezzo di ferro dentro un bastone di ferro e la corda girava si legava la e si legava ma dato che bisognava fare 150 metri si mandava fino alla via fortunati ah ho capito al di là della via verganica quasi in via colombo e quasi per fare un pezzo solo mancano 20-30 metri siamo già in via colombo per fare un pezzo unico ma allora le macchine a 6 sognano passavano no no certo a quanti anni lei ha iniziato a fare la corda dunque tegati nato nel 23 negli anni 30 immagino no aspetta un momento perché perché mi avevano richiesto a Milano e sono andato dove c'era un proprietario ammogliato che era senza figli e mi hanno detto Coprini vieni qua e vai avanti te non ho accettato non ho accettato perché volevo far da solo per orgoglio perché sbagliavo sbagliavo e non volevo ordine ordine da cioè non ero l'operario che riceveva l'ordine non ho capito a me non piaceva e sono rimasto lì sì sono rimasto lì fino dunque fino a 64 ah ho capito perché nel 52 ho fatto sul prestino prestino che allora allora si riusciva 32 milioni da 52 di quando quando gli appartamenti valevano 2 milioni 1 milione e 8 e mi fa sui quali che ho mandato dentro i fratelli ecco e poi abbiamo fatto l'altro eccetera eccetera quindi arrivate a questo punto arrivate a questo punto che cosa si deve fare non so il materiale cioè le cose adatte per fare per per incominciare la corda e finirla perché appunto ha quello da Calprelli che sì mi diceva prima che ha consegnato tutto questo materiale storico a un prete che poi purtroppo è scomparso improvvisamente il materiale non è più tornato l'avevo prestato ed è non è più tornato tutta l'attrezzatura di una volta ecco che si usa per farla c'ho là la macchinetta quella quella che attorciglia no mi diceva sì quella in magazzino ecco e un'altra cosa volevo chiedere il quando ha iniziato l'attività adesso nel negozio lì commerciale dunca il povero Cornelio Ferrario no è la parentesi i frati concessionista non potevano uscire perché davanti c'era la mia striscia di cosa e allora ho cominciato insomma a vendere a vendere a vendere a compiere qualcosa di commerciale il portonello del madì al gel post di fatti dove sono lì che il proprietario erano i valestrini i valestrini avevano andato in mano come come amministratore questa casa a un certo ragioniere sala che stavo in via larga milano e allora siamo andati giù erano le otto le otto e mezzo incominciare la trattativa che è finito alla sera le otto osteria tutto un giorno a base a base di sette caffè e abbiamo comperato com'è a comperare a comperare un asino e una volta si batteva la mano e se partì a 35 milioni siamo arrivati e non lo dico no almeno molto molto meno la richiesta era questa poi dopo tante trattative una giornata di trattativa la cifra diciamo che è diminuita penso in maniera considerevole una domanda ancora che lei sappia in Italia un'attività come la vostra così artigianale non c'è più non c'è più fino a pochi anni fa c'era vicino a Lodi un cordaio come solo sì che mi lasciò le morti insomma andò giù a trovare un mese prima e era un buon artigiano faceva delle cose belle ma l'attività è finita insomma perché l'attività artigianale non rende e poi adesso immagino che le corde siano quasi tutte se non per non dire tutte sintetiche di canapa non ce ne sono più no ce ne sono perché per esempio io ho l'idea di rotola di canapa per architetti per quella gente lì che vogliono la canapa che è già difficile la trovare perché poi le corde si dividono in fibre in fibre naturale come la sisal come la c'è la manila che avevo detto prima la sisal perché la manila nasce in l'acqua la sisal nasce in Kenya o o naccioni calde poi c'è il cotone poi c'è la stoppa e poi c'è l'aiuta insomma le qualità sono comunque adesso il sintetico ha preso piede completamente ormai è sintetico perché lo supera in tutti i sensi anche per le navi i pescherecci tutto sintetico naturalmente difatti per fermare per ancorare una nave di 40.000 torellati che aveva almeno il 100 mm oggi col 20 mm la firma in rapporto sintetico è stupendo è certo poi sulla resistenza chimicamente immagino da profano lo dico influenza molto questa costruzione di funi molto resistenti si può senz'altro dire senza alcuna esitazione che il signor Angelo Copreni è l'ultimo degli esperti della costruzione di corde e la corda ricordiamolo sicuramente ha agevolato il progresso economico e sociale dell'umanità perché è stato uno strumento utilissimo e ancora adesso è utile in certi casi negativi adesso questo qua non lo diciamo perché magari in quel film lo avete è stata cascata è stata cascata è stata cascata Grazie a tutti.